Oggi siamo a Sorbolo, in provincia di Parma, sono con l'ingegnere Lorenzo Ferrari, titolare della Ferrari Water Design, azienda che, come suggerisce il nome stesso, si occupa di tutto quello che gravida intorno al mondo piscine. Inquadriamo subito il settore. Il settore è un settore che si sta allargando, è un settore che parte da un concetto di piscina, di lusso, ma che oggi è diventato di benessere per la propria famiglia. Benessere è anche un valore aggiunto per la propria abitazione? Assolutamente. Chi oggi investe in piscina sa che farà un investimento sulla propria abitazione e un domani, se dovesse andare alla vendere, avrà comunque un valore aggiunto. Parlando dei clienti, la Ferrari Water Design li segue in ogni fase del progetto. Come avviene una commessa? Inizialmente partiamo da quelle che sono le richieste dei clienti, quindi i suoi bisogni. Suggeriamo quelle che sono le annunzazioni tecniche, passiamo a una renderizzazione del progetto e quindi alla fase di costruzione e, se il cliente vorrà, alla manutenzione della piscina. E quali sono le tipologie di piscina più richieste al momento? Le tipologie più richieste sono piscine fuoriterra e piscine interrate a skimmer o a sfioro. Una volta installata la piscina ci dobbiamo occupare della manutenzione. La Ferrari Water Design segue anche questo aspetto? Assolutamente sì. È il nostro core business in quanto siamo convinti che un'altissima attenzione al cliente, quindi alla manutenzione della piscina, sia un servizio importante da dare ai nostri clienti. Il cliente è parte attiva nella manutenzione? Il cliente è parte attiva in quanto con piccolissimi accorgimenti può andare a ridurre notevolmente quelli che sono i costi di manutenzione di una piscina. Grazie ingegnere Lorenzo Ferrari per i preziosi consigli e buon lavoro. Grazie a lei.